Quest'idea che secondo noi bisogna tirarle fuori per poter stare in piedi e andare avanti con le attività. Abbiamo rispolverato la vecchia tradizione della Saccomandi che vendeva decenni indietro e il cocomero davanti alla caserna dei militari. Quindi mi ricordo che si faceva la fila per sarare il cocomero. Abbiamo avuto la fortuna di individuare un cocomero di altissima qualità quindi ci siamo detti perché non rispolverare questa vecchia tradizione. Abbiamo parlato con diversi clienti, anche dei personaggi, compreso il sindaco e hanno apprezzato tutti questa idea di assaggiare il cocomero. Noi visto l'estate torrido, un caldo quasi insopportabile, abbiamo pensato di proporre alla nostra clientela, anche ai turisti, qualcosa di fresco. Abbiamo anche una novità, il cocomero incrociato con l'ananas, di cui è una pasta diversa, un sapore diverso, che sta avendo molto successo. Nel mediesimo tempo viene abbinata la pizza, la gelateria, la pasticceria e tutto quello che abbiamo. Granite, cioccolato, estratte di frutta e verdura. La gente è già apprezzato, ma già dai preparativi la gente si fermava, i clienti, a chiedere e volevano già mangiare prima di esporla. Quindi abbiamo avuto molto interesse e molti complimenti, più che altro per l'idea, l'iniziativa. Poi stiamo studiando per altre iniziative per Natale, che per adesso non ci pronunciamo. Mille